notare il mio gatto che se lo dorme? gatto se lo dorme pacifico dopo dopo si chiama o meglio si chiama topolino dopo 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 facebook che si brinchi um ciao se non muoio da una settimana di influenza 5 giorni a letto mi sembrava di morire non ne potevo più topo fatti vedere dai fai qualcosa fatti vedere pito 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 topo niente se non dormo io non so come farò a spostarmi perché dorme sulla mia carrozzina vabbè io dovrei andare in bagno mettermi il pizzo minino andare a letto perché è mezzanotte e mezza dovrei andare a letto però mi si fa e lui dorme mi si fa se lui dorme pira pira si fa vai vedere a chi dorme che sei morto vai vedere vai vedere vai vedere vai vedere che sei morto ti o vabbè 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 2011 manca solo un anno e poi moriremo tutti non lo so perchè sto facendo questo video oddio la tusso imminente e sto morrendo questo è colpa di game kicks sto so colpa sua no ma sto meglio sto meglio sto molto meglio oddio no come mi sento persino il calendario di paolo il calendario l'oroscopo di paolo fox diceva che inizio di anno veramente ti sentirai fondamentalmente uno schifo molto affaticata ti porterai l'affaticamento degli ultimi mesi del 2010 ma poi alla volta di giugno no dai aprile maggio ti sentirai molto meglio e tutto migliorerà in effetti che uno che c'è che il cancro si porta dietro per quanto riguarda si porta dietro io sono il design del cancro si porta dietro all'affaticamento dei mesi passati è vero mi sento uno schifo però speriamo che ci abbia preso tutto migliorerà e lì saremo tutti felici dopo svegliati 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 maho 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 odio perdonate questi miei video veramente mmm patetici tristi tristi e di di v vabbè ehm però non lo so più che altro volevo farmi vedere lui lui che darò le mie spalle 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 non è vero non è vero ehm ehm abbiamo fatto anche su facebook su sul mio facebook di quando era più piccolo e credevamo fosse una femmina e invece poi abbiamo scoperto che ero un maschietto il mio povero amico asmatico con con il cuoricino un po' più piccolo del normale e un polmone un po' più chino un po' più chino un pochettino più debole dell'altro e e basta queste capelli sono diventate indomabili ormai vabbè ecco guarda mi stiro dopo 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 mi fatti vedere vedi 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 e si ecco poi c'è anche la freddora poi sempre vedi 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 sono piccolina c'è solo 8 mesi sei un piccolo guarda come sei un piccolo guarda qua vabbè 8 mesi eh sono un leone ma fa niente è grigio è tutto grigio come un top va bene basta in questo video delirante ehm buon anno a tutti benvenuti nel domenà è undici speriamo che sia un anno migliore speriamo che sia un bel anno speriamo sia un anno decente va bene va bene ciao buona notte pace a presto ciao hm